ciao a tutti molti di noi trascorrono ogni singolo minuto della giornata preoccupati dell'assunzione di collagene sto scherzando probabilmente molti di voi non sanno neanche cosa sia anche io ho dovuto cercarlo il collagene è una proteina estremamente importante è necessaria per mantenere sani il tessuto i muscoli e la pelle del corpo questo può rallentare i segni dell'invecchiamento ecco nove alimenti che aumentano la produzione di collagene il pollo è una scelta salutare e devo mangiare il pompelmo aspetta quale parte del pesce devo mangiare parliamo di tutto questo e altro ancora cominciamo vero 1 kiwi e kiwi sono eccezionalmente ricchi di vitamina c un nutriente di cui il nostro corpo ha bisogno per eseguire la fase di produzione pre collagene in breve la vitamina c si coordina con gli aminoacidi glicina e prolina per produrre idrosiprolina amminoacido che assicura la tripla struttura elicoidale del collagene 2 frutti di bosco la vitamina c è fondamentale per la produzione di pre collagene ma funge anche da potente antiossidante gli antiossidanti proteggono dalla rottura delle cellule di collagene causate dai radicali liberi tossine che sono presenti quando respiriamo l'aria mangiamo cibo e vediamo acqua come il kiwi i frutti di bosco sono un'altra grande fonte di vitamina c mirtilli more lamponi e fragole sono potenti fonti di antiossidanti che prevengono i danni dei radicali liberi 3 mandorle le mandorle contengono una sana dose di vitamina e l'antiossidante più abbondante nella nostra pelle questa vitamina serve a neutralizzare i radicali liberi che danneggiano le cellule di collagene la vitamina e si coordina anche con la vitamina c per stimolare la formazione di collagene inoltre le mandorle sono un'ottima fonte di rame un minerale essenziale necessario nella formazione delle fibrille di collagene in breve il nostro corpo ha bisogno del rame per completare l'ultimo passaggio durante la sintesi del collagene 4 avocado gli avocado potrebbero non essere altrettanto ricchi di vitamina e delle mandorle sebbene contengono una buona quantità di antiossidante forza comprane subito parecchio e fresco la pelle e i capelli ne trarranno beneficio si sappiamo che la freschezza si paga 5 carote le carote sono una fonte abbondante di vitamina a che aiuta a riparare e ripristinare il collagene della pelle danneggiata non ti piacciono le carote nessun problema patate dolci zucca albicocche melone e mango sono ottime alternative praticamente qualsiasi cosa sia arancio tranne le arance ironicamente può aiutarci a soddisfare i nostri bisogni di vitamina a 6 verdure verde scuro le verdure e verde scuro sono tra i super alimenti più ricchi di nutrienti che il nostro pianeta possa offrire per cominciare sono potenti fonti di vitamina a vitamina c e vitamina e tutti questi sono nutrienti vitali per la sintesi del collagene come dicevamo in precedenza inoltre le verdure e verde scuro come spinaci cavoli fagiolini e broccoli tra gli altri contengono clorofilla pigmento che dà alle piante il loro bel colore verde gli studi hanno dimostrato che la clorofilla aumenta il pro collagene precursore della formazione di collagene nella nostra pelle quindi ne possiamo vedere i benefici anche per la bellezza 7 agrumi la vitamina c svolge un ruolo importante nella produzione di pro collagene il precursore nel corpo del collagene pertanto assumere abbastanza vitamina c è fondamentale come probabilmente saprai agrumi come arance pompelmi limoni e lime sono pieni di questo nutriente prova un pompelmo grigliato per colazione o aggiungi pezzi di arancia a un insalata 8 aglio l'aglio è ricco di zolfo un minerale essenziale che ha dimostrato di poter migliorare la sintesi del collagene lo zolfo aiuta anche a prevenire la rottura delle fibre di collagene quindi è particolarmente utile per preservare la pelle e le articolazioni sane 9 semi di zucca non hai tempo di preparare una cena a base di pesce nessun problema la maggior parte dei semi e delle noci sono ricchi di zinco in particolare semi di zucca e anacardi entrambi questi snack facili e veloci possono fornire una spinta al collagene mentre sei in movimento mangi qualcuno di questi alimenti considereresti di provarne qualcuno per aumentare la tua produzione di collagene facci sapere nei commenti qui sotto ci vi piacerebbe saperlo